Dal Vangelo secondo Giovanni In quel tempo Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i Suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Allora Gesù, alzati gli occhi, vide che una gran folla veniva da Lui e disse a Filippo Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare? Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo Duecento denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo. Gli disse allora uno dei Suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro C'è qui un ragazzo che ha cinque pani d'orzo e due pesci. Ma che cos'è questo per tanta gente? Rispose Gesù Fateli sedere. C'era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa cinquemila uomini. Allora Gesù prese i pani e dopo aver reso grazie li diede a quelli che erano seduti. E lo stesso fece dei pesci. Quanto ne volevano? E quando furono saziati disse ai Suoi discepoli Raccogliete i pezzi avanzati perché nulla vada perduto. Li raccolsero e riempirono dodici canestri con i pezzi dei cinque pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente visto il segno che egli aveva compiuto diceva Questi è davvero il profeta colui che viene nel mondo. Ma Gesù sapendo che venivano a prenderlo per farlo re Si ritirò di nuovo sul monte. Lui da solo. Parola del Signore. Con questa domenica lasciamo il Vangelo di Marco e per molte domeniche ascolteremo invece Giovanni il grande racconto del capitolo 6 sul pane di vita Il grande discorso di Gesù preceduto da questo brano cioè dal racconto della moltiplicazione dei pani Un evento importantissimo che viene raccontato per ben sei volte nei Vangeli Nel racconto di Giovanni Alcune particolarità sono Una particolarità specialmente è quella che solo Giovanni ci racconta di chi sono i cinque pani e i due pesci Cinque pani d'orzo dice Giovanni per essere precisi e due pesci sono di un ragazzino Un ragazzino che viene presentato da Andrea il fratello di Simon Pietro che lo porta da Gesù Questo ragazzino dice proprio così il testo Ragazzino O ragazzetto, un diminutivo Ecco, questo ragazzino porta la sua merenda diciamo così al Signore Gesù Mette a disposizione tutto quello che ha davanti a una moltitudine immensa di gente Che cos'è questo per tanta gente? Dice Andrea Non è niente Cinque pani per migliaia di persone non sono niente Però lui le mette a disposizione Ecco, quel ragazzino ha fatto un gesto e questo gesto e questo dono permette a Gesù di farlo di moltiplicare nel senso di amplificare questo dono di rendere questo dono una condivisione per tutti Ecco, nel Vangelo di Giovanni fa tutto Gesù E' Gesù che prende i pani E' Gesù che rende grazie E' Gesù che li dà a quelli che erano seduti E' lui che prende l'iniziativa E' lui che incomincia una grande rivelazione attraverso quel segno la rivelazione del pane della vita quel gesto, quella condivisione nata dalla generosità di quel ragazzino diventerà una grande manifestazione del Signore Gesù La gente non la capisce La gente, la folla visto il segno non ne comprende pienamente il significato e venne a prenderlo per farlo re Ecco finalmente uno che ci riempie la pancia che risolve il nostro problema fondamentale avere da mangiare La folla si ferma a livello più materiale più concreto Gesù li prenderà per mano e li porterà piano piano o cercherà di portarli a scoprire il significato profondo di quel segno di quel gesto Ma oggi la cosa diciamo che ci sta a cuore è mettere al centro il primo gesto la radice di quel dono Il ragazzino con i suoi cinque pani d'orzo e i due pesci E' naturalmente un segno per tutti noi se noi metteremo a disposizione di Gesù il pochissimo che siamo e che abbiamo senza preoccuparci dei risultati o del riscontro se noi avvieremo segni gesti di condivisione poi ci pensa Gesù a moltiplicarli ad amplificarli a renderli dei segni rivelativi della sua presenza perché Gesù è lì presente dove si condivide dove si dona dove ci si mette a servizio che questa moltiplicazione sia davvero la gioia della nostra vita moltiplicare la gioia moltiplicare la speranza moltiplicare la condivisione con tutti di grazie di grazie